Accessi che devono essere favoriti nella massima sicurezza, programmazione delle visite in base alle condizioni di salute, all'età dell'ospite e delle strutture riceventi. Ingressi consentiti a non più di due visitatori per ospite tramite possesso di green card che dimostri la vaccinazione completata, la guarigione o un tampone negativo, preferibilmente all'aperto o in spazi aereati. Queste le condizioni perché gli anziani ospiti dell'RSA possono tornare a riabbracciare i loro cari all'interno della struttura ma anche con la possibilità di effettuare uscite per qualche ora. In sintesi, l'ordinanza firmata in anticipo rispetto alla data prevista dal Ministro della Salute Roberto Speranza si inserisce nel percorso indicato dal Governo verso riaperture e normalità. Annunciata già nel discorso dal Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio è diventata realtà in tutta Italia, anche se in molte RSA è passata in sordina, con il Governo che è già stato subissato di proteste da parte dei comitati familiari contro chi non sta rispettando le regole. È stato il Consigliere del Ministro della Salute Sandra Zampa ad intervenire per cercare di smorzare sul nascere un malumore crescente. Solo un problema di organizzazione, visto l'anticipo con cui è stata emessa l'ordinanza, ha rassicurato il Consigliere, che nel medesimo tempo però ha incalzato le regioni e i sindaci all'impegno perché il via libera venga garantito, considerando che gli ospiti delle residenze sono tutti vaccinati e non possono continuare a pagare un prezzo che sta diventando davvero troppo oneroso. Su quello che per ora pare limitarsi un disguido tecnico è intervenuto anche il Presidente del Comitato Open RSA ANAO, Dario Francolino, limitando formalmente le famiglie che dovessero vedersi negato un diritto acquisito con fatica a rivolgersi al garante delle persone private della libertà, segnalando alle forze dell'ordine e alle regioni le RSA in adempienti. Anche in Piemonte, su 748 strutture, alcune non hanno riaperto le porte. Infatti, venerdì scorso, il Presidente Cirio aveva indicato il via libera per il 15 maggio. Però stiamo lavorando, ha fermato il Governatore, perché gli ospiti e i loro parenti possono tornare ad incontrarsi, almeno nel 96,5% delle RSA Covid-free. I giorni scorsi la regione ha consegnato gratuitamente alle residenze tamponi rapidi e grazie alla cosiddetta piattaforma residenzialità può monitorare in tempo reale la situazione di ogni singola struttura. Inoltre, ha continuato l'assessore regionale della sanità Luigi Cardi, in questi mesi le strutture hanno compiuto sforzi enormi per adeguarsi alle misure di sicurezza richieste per l'emergenza Covid-19. La nostra regione è fra le prime in Italia e si è fatta promotrice dell'istanza presso il Governo. Il Piemonte, stanziando 1 milione e 100 mila euro, ha favorito la fornitura di oltre un milione di test rapidi per monitorare ospiti e personale ogni 15 giorni, mettendo a disposizione 41 milioni di ristori per fronteggiare l'emergenza e istituendo un osservatorio regionale con cabina di regia su base provinciale.